come dire, aritmetica, nel senso che senza i voti dei 5 Stelle, anche quei pochi voti dei 5 Stelle, il centro-sinistra non può vivere. Non ce la fa. La cosa che credo agevolerà questa trattativa, si è capito che la trattativa con i leader che sarebbero titolari di pacchetti di voti, ma poi in realtà non lo sono, non funziona questa trattativa qui. Quindi trattare con Calenda ti risponde su, era prevedibile, tutti domenica abbiamo cominciato di dire che farà Calenda se esce terzo, dirà o con me o con i 5 Stelle, ma proprio era ovvio che lui avrebbe avuto, sarebbe stato molto bello se lui ci avesse smentito, se ne fosse inventata un'altra. Quindi io penso che Gualtieri si rivolgerà, come ha già detto, agli elettori, cioè non tratterà, sa benissimo che il ballottaggio è la scelta tra due persone, non tra due schieramenti. Il primo turno sì, scegli tra due schieramenti, il secondo no. Io ho formulato una proposta scherzosa, che poi ha dilagato sui social, e cioè Michetti è responsabile di un risultato modesto del centro-destra a Roma, non se l'aspettava nessuno perché il centro-destra a Roma è molto forte, quindi era quotato negli ultimi sondaggi che si potevano comunicare sul 44%, addirittura il 47% è presso il 30% e in questo momento è a meno di tre punti da Gualtieri. Ora, è chiaro che c'è una componente di elettori di centro-destra che hanno detto beh, sono Michetti, non ci piace, cioè non ci convince, non è all'altezza. Magari sottovalutandolo, però c'è l'elemento dell'antipatia persone, tanto è vero che la Meloni in questi giorni sta dicendo, qui se non lo aiutiamo, poi non venitevi a dire che ho perso io, abbiamo perso tutti. insieme, ecco. Allora, io ho formulato questa proposta scherzosa, ovviamente, di chiuderlo da qualche parte, cioè non farlo vedere, non farlo vedere, farlo vedere il meno possibile, dire che ha avuto un'influenza, una lauscedina, una cosa... Ma non si dice. Lascia stare, se ci fosse una bella campagna... È un consiglio. Del centro-destra, del centro-destra, anche di quelli che metti, non so, se Gasparri si mettesse in movimento, Gasparri che era un candidato sindaco che probabilmente avrebbe fatto molto meglio, se Bertolaso si mettesse in movimento, siamo tutti per di che... Tu dici, arriverebbe un altro risultato. L'importante è che lui stia zitto, non si faccia vedere, e allora il centro-destra potrebbe anche vincere. Ovviamente arriva anche la Sarina, Alessio, che succede? Vedo anche Giusti.